I mini-on ormai sono una certezza, una sicurezza che al box office non delude mai. E anche cattivissimo Me 4 nell'ennesima conferma, perché in attesa di vederlo nelle nostre sale a partire dal 21 agosto, negli Stati Uniti ha debuttato con un primo solido weekend, ovvero quello del 4 luglio da oltre 120 milioni. Ed è una conferma e una certezza anche sul piano narrativo, perché il nuovo film ci propone proprio quello che possiamo aspettarci dai buffi personaggi gialli di casa Illumination e dal loro capo Gru, con delle aggiunte interessanti che possono assicurare varietà e novità, ma anche alcune dinamiche consolidate del franchise e dello studio d'animazione guidato da Chris Meletandri. Sette anni dall'ultimo cattivissimo Me, ossia il terzo, e solo due dal secondo film dedicato agli scagnozzi di Gru Minions come Gru diventa cattivissimo, che ha superato il miliardo di dollari nel mondo. E sono fenomeni questi che, come dicevamo, tornano con una duplice evoluzione. La prima personale familiare per Gru, che deve vedersela con Gru Junior, ossia il nuovo membro della famiglia che promette di far disperare suo padre, mentre l'altra professionale. È infatti ormai agente della Lega Anticattivi e impegnato contro un nuovo terribile avversario, ovvero Maxime Lemal, che darà certamente al nostro anti-eroe del filo da torcere insieme alla sua fidanzata Valentina. Ed è uno scontro questo che costringerà quindi Gru, Lucy, il nuovo arrivato e le altre tre figlie, Margot, Edith e Agnes, a fuggire e cercare la via dell'anonimato per proteggersi. Ed è uno spunto questo sicuramente interessante, nonché sviluppato in maniera essenziale per dar spazio alle gag che Illumination sa costruire così bene. Ed ecco una prima conferma. Lo studio di Meledandre riesce infatti a mettere in piedi situazioni che sanno divertire e coinvolgere il pubblico, intrattenendo poi con il non-senso a cui il franchise di Gru e i suoi Minion ci ha ormai abituati. Una formula questa che si è saputa adattare alle risposte del pubblico, spostando l'equilibrio dal protagonista ai suoi comprimari, che si sono dimostrati beniamini dei più piccoli, nonché vere icone d'animazione e cultura popolare contemporanea. Si è dato così vita a film più frammentari e basati su un umorismo estemporaneo e fisico rispetto alla costruzione narrativa forte e gli spunti interessanti che davano vita al primo capitolo. E una seconda conferma arriva anche dal cast vocale, da uno Steve Carrel sempre puntuale nel dar voce a Gru, da noi ancora una volta Max Giusti, da una Kristen Wiig nei panni della sua compagna Liusi, interpretata da Carolina Benvenga in italiano, fino alla new entry Will Ferrell che diventa invece Stefano a corsi nel doppiaggio nostrano per il villain Maxina di questo quarto capitolo, accompagnato da Sofia Vergara che dà voce a Valentina. E poi va assolutamente citato anche Pierre Coffin, l'artefice nonché doppiatore della travolgente parlata dei Minion, che film dopo film si è rifinita diventando sempre più ricca nel lessico, riconoscibile e caratterizzante. Sono infatti ancora loro a catturare l'attenzione e a caricarsi sulle spalle l'anima più divertente e disimpegnata, qui inoltre con un'interessante evoluzione che va a creare i Mega Minion, ovvero una sorta di gruppo di supereroi che permetta di ampliare il raggio d'azione delle situazioni che li vedono protagonisti, nonché le citazioni di cultura pop che possono mettere in scena, come ad esempio quella imperdibile al secondo Spider-Man di Sam Raimi, che sono tutti protagonisti di gag fulminanti, divertenti e che funzionano proprio per la loro immediatezza slegata dal fruto del racconto. Non è un caso, infatti, che i Minion ci appaiano più efficaci nei cortometraggi, ovvero quando le loro peripezie non hanno bisogno di altro per funzionare e divertire, mentre invece rischiano di stancare sulla lunga distanza di un film. E qui invece che cosa succede? Riescono ancora a rubare la scena o si inizia a percepire magari una certa stanchezza. Beh, è difficile rispondere in maniera assoluta, perché è vero che ci piacerebbe vederli inseriti in un contesto narrativo più strutturato, limitati a un supporto leggero per la storia che ci viene raccontata piuttosto che qualcosa che si muove parallelo ed estemporaneo, ma è ugualmente vero che non è a noi spettatori adulti che le icone gialle di casa Illumination parlano, o almeno nel loro travolgente linguaggio. Dialogano infatti con i più piccoli e ci fanno venire in mente una citazione di un'altra icona del cinema, ossia quel Marty McFly di Michael J. Fox che al termine della sua travolgente Johnny B. Goode, poco apprezzata dagli studenti degli anni 50, si giustificava con un «Ai vostri figli piacerà». E noi, guardando cattivissimo Me 4, non possiamo far altro che pensare proprio questo. Al netto di limiti narrativi, di situazioni che iniziano magari a risultare ripetitive, di novità non sfruttate fino in fondo, il film è comunque costruito per funzionare bene per il suo pubblico d'elezione. Ed è un merito questo che va senz'altro riconosciuto alla produzione. E voi invece che cosa ne pensate? Amate la saga di cattivissimo Me? Fatecelo sapere nei commenti.